Real Trust Fra alti e bassi, il Torino della rinascita concluse quel campionato di Serie B con un terzo posto inatteso. La vittoria dei play-off contro tutti i pronostici riportò la squadra in Serie A e per la prima volta dopo molti anni in quell'estate del 2006, mentre la Torino Granata festeggiava, quella bianconera iniziava a temere quanto poi sarebbe accaduto in seguito agli scandali di Calciopoli. In quei giorni, illuminati dalla vittoria dei mondiali, davanti agli occhi degli Ultras Granata, stava per concretizzarsi un sogno che sembrava impossibile. Vedere il Torino disputare un campionato di Serie A mentre la Juventus era in B. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!